Non sono stato perfetto con il Cavaliere Berlusconi, scappai da Mediaset, andai a lavorare in rei e venni condannato All'esilio da Mediaset? No, all'esilio, a due miliardi e mezzo di... Ah no, pensavo una roba più blanda io! Muschio e senaggio, in podcast più fico, Luis, Federico, Martì Muschio, microfono, videocamere, luci, ospiti diversi, senti nuovi amici, venti minuti, un'ora di argomenti Inizia, imprendibilità, cioccolta, ripotenza, risalte, piante, rispetto, sincerità e approfondimenti Siamo negli anni venti... Muschio selvaggio Borsoni da viaggio Ehi, fratello, la tua pollastra non ci ha consegnato la merce Merce, merchandising e il nuovo borsone di Muschio selvaggio by Carpisa Se vi piace lo mandiamo in produzione Luis, ti piacciono? Molto belle ed è ricavato da bottiglie riciclate, non me l'aspettavo Borsoni Muschio selvaggio by Carpisa, non te l'aspettavi? Bentrovati a un nuovo episodio di Muschio selvaggio, questo è un podcast, non so perché stia parlando come se fossimo allo stadio Abbiamo con noi due ospiti, Mischeta e Massimo Boldi qui con noi Ciao a tutti! Out applauso anche Grazie di essere venuti qua Grazie Grazie a voi La Fosa Milano, fortunatamente è stata diventata l'aria condizionata e non suderemo tanto Bene dai, c'è anche l'erba La nostra area condizionata non funziona così bene da non sudare Degli anni 80 probabilmente, possiamo fare un piccolo zoom sull'aria condizionata Chissà che aria esce da lì Sì, è un'aria degli anni 80 Vabbè ci sta Oggi ci sta un pochino di aria un po' nostalgica della Milano C'è il gancio perfetto Milano anni 80, Massimo Boldi Italia Cazzo bravissimo Un anno e mezzo di podcast, ragazzi, sono diventati fortissimi Gli anni 80 sono stati straordinari, stupendi Specialmente per me poi, perché io ho cominciato un po' prima a fare questo fantastico, straordinario, straordinaria professione Perché non è un lavoro questo E io sono passato dalla batteria, perché io suonavo con un gruppo musicale Sono passato dalla batteria al cabaret e dal cabaret al cinema Tutto un happening è stato straordinario Qual è stato? Scusami, ti ho interrotto Ah, vedi? Perdonami Qual è stato? Il primo cinepanettone che hai fatto Dunque, il cinepanettone esatto, non è esatto dire il cinepanettone Perché il cinepanettone è un termine che ha dato un critico del cinema Che non dico il nome perché se no mi incazzo Mentre facevamo Natale in India Eravamo in India Ma è dispregiativo il cinepanettone Non è che sia una chicca Non è che stavamo facendo un film di grande impegno E questo ha detto ma voi Ma voi Questo non è un film È un cinepanettone Poi è entrato però nel gergo comune delle persone No, poi dopo invece è piaciuto E di conseguenza ce lo siamo anche tenuti a Cristian Adesso diciamo il cinepanettone Però il primo cinepanettone che non era un cinepanettone Ma era solamente un film era Iuppies Iuppies? Iuppies Sempre agli 80 1984 c'ero io, c'era Geri Calan, c'era Ezio Greggio e c'era… Chi è che c'era? Chi è che c'era? Allora Geri Calan e Teo Teocoli non c'era Cristian de Sica Cristian de Sica E allora… E allora… E allora… Ma un'interrogazione in realtà Esatto Ci sta interrogando E poi ce ne sono stati tanti C'è l'1, il 2… Abbiamo fatto l'1, il 2… E poi dopo abbiamo fatto… No, Monte Carlo Gran Casinò… Poi abbiamo fatto… Grandi magazzini Sì, però era tutta un'altra menata quella… Eccolo lì, abbiamo lì la copertina… Esatto Iuppies Sì, ho visto di recente una piccola intervista, un estratto in tv con dei microfonini al pesi al collo e parlavate di questa tecnologia… No, ma era una promozione al film Esatto Sì, è una promozione che avevamo fatta… E invece a te, Miss, ti appassiona questo aspetto… Quest'Italia agli 80… Tantissimo Nel senso che… È fondante dell'immaginario di Miss la Milano da bere agli 80, rampante… Quella un pochino descritta da Iuppies in maniera così ironica, voglio dire… La Milano che lavora sempre, dove si lavora gli aperitivi, si fanno gli affari in discoteca… A me ha sempre affascinato con l'immaginario È la Milano del boom economico… È quella Milano lì, proprio estrema, saturata… È la Milano del Berlusca… È quella Milano là, sì… Esatto, è vero, quel periodo lì è proprio fondante dell'immaginario… Animale, vieni giù dalla pianta… E Berlusconi avete avuto… Ma sì… Io ho conosciuto Berlusconi, me l'ha presentato Bettino Craxi… Che bello… Tutte belle persone… Che salutiamo… Perché Bettino Craxi era un assiduo cliente del Derby Club, era amico di tanti artisti… E di conseguenza un giorno mi disse… Devo farti conoscere uno che farà la televisione con lui… E infatti arrivò a Berlusconi… E infatti Bettino gli ha regalato le televisioni… Penso di sì… E quindi è stato tutto… Ma infatti… Credo che sia anche un pochino questo la Milano degli anni Ottanta… Nel senso che al Derby… Vedi cosa succedeva… Tutti questi incontri… Eh sì… Era… C'è tv, arte, politici… È tutto un gran mischione, no? Sì… È una factory… È una factory… È vero… E infatti mi piace molto il fatto… Io sono… Ho frequentato il Derby da giovane… Però non era più il Derby… Era un centro sociale… E uno dei più grandi sostenitori… Credo anche economicamente… Del cantiere… Che credo esista tuttora… Era Dario Fo… Che non voleva che il luogo morisse… Che rimanesse un centro di ritrovo… E quindi finanziava l'occupazione… Perché poi è stato occupato… Dell'ex Derby… Che era diventato un centro sociale… È stato occupato per dare spazi a artisti come te… Per fare degli pop… Cazzo è vero… È vero… La prima volta che sono salito su un palco… Davvero… 14 anni al cantiere… Birra calde… Birra calde… Sì sì… È vero… Anche tu allora ti sei formato al Derby… Sì… In un'altra era… In un'altra epoca… C'erano ancora i manoschetti… Le cose sulle pareti… No… C'erano i graffiti… Non c'era… Non era rimasto nulla… Comunque è bello… Specificare che il Derby… Si dice il Derby… Come se tutti sapessero cos'è il Derby… Ma in effetti nessuno lo sa… Io non avevo idea… Cinque minuti fa… Perché si dice il Derby… Come dire… San Siro… No… Non è uguale… Non è la stessa cosa… Però… È un punto di riferimento dove… Dove tanti artisti sono… Si sono formati… Si sono formati… Si sono formati… Ed hanno avuto… Meritate successo… Ma… La cosa drammatica… Invece… Che non mi piace… Che sono quelli… Che hanno continuato… A fare il cabaret… E nonostante… Siano passati… 45 anni… Fanno lo stesso cabaret… E lì diventa triste… Beh… Se si divertono… Comunque… Eh beh… Ci sta… Dici che da vedere è uno spettacolo… Non… Non piacevole magari… No… No… È un fatto sentimentale… Sì… Hai nostalgia… Tu di quel tempo… No… No? No… Ha più nostalgia lei probabilmente… Perché… Tu non l'hai vissuto… Probabilmente sì… Di che anno sei? Si può dire? No… Non si può dire… Io sono perennemente una diciottenna… Ok… Di fronte alla vita… Ok… Però… Non lo so… Questo non lo posso dire… Se non in presenza del mio avvocato… Ok… Dopo ne parliamo con lui… Ok… Vediamo… No… Comunque sì… È vero… Cioè… È un'età che… Ma sai… Come tutte le cose che non vivi… Alla fine… Ti rimane quella… Quella foga di… Volerle aver vissute in prima persona… Cioè… È ovvio che tutto quello che… Non riesci a toccare direttamente… Ti affascina molto di più di quello in cui sei dentro completamente… Cioè… Adesso questo derby qua… Cioè… Quando vi siete resi conto che eravate in qualche modo le icone di un'epoca? Ma… Eh… Ma io poi mi sono… Mi sono… Eh… Spostato… Praticamente con un… In coppia con Christian… E di conseguenza abbiamo formato un duo… Abbiamo formato un genere… Eh… E quello… È stato il momento in cui… Era il 1990… Eh… Con vacanza Natale 90… Dove… Abbiamo capito… Che potevamo… Forse lavorare un po' di tempo… Su quel filone… Su quella… Su quel genere lì… Certo… È chiaro che ci divertivamo tantissimo… Guadagnavamo tantissimo… Guadagnavamo tantissimo… Quanto guadagnavate… Qua si può dire… Tanto… In lire… Diccelo… Flexa un pochino… Guarda… Tu fai… Allora… Devi fare i conti… Quarant'anni fa… Quarant'anni fa… Sì… Quarant'anni fa… Io e Christian guadagnavamo… 500 milioni a film… 500 milioni di lire… Quindi 250 mila euro… Sì… A film… Pensavo di più… No… Quello dopo… Ah… Quello dopo… All'inizio… No… Quello… I primi tre film… No… Noi abbiamo fatto… Fratelli d'Italia… Dove… Dove… Io racconto la storia del… Del milanese che va a Roma a vedere la partita… Sì… Certo… Carlo Verdone… Eccetera… Da quel film lì… Abbiamo avuto… La… La… Grazia di… Aurelio De Laurentiis… Si può avere un coccino d'acqua… Eh… Guarda… L'ho detto a… A colei… A Chiara Ferragni… A Chiara Ferragni… Alla signora… Ecco… Con De Laurentiis… Che… Che ci fece un contratto… A me… A Christian… Doveva farlo anche a Jerry Calà… Ma Jerry Calà… Ma Jerry Calà… Disse… Uh… Nessuno capì… Cosa voleva dire… Capito… E di conseguenza… Siamo rimasti io… Io… E Christian… Ha perso un treno… Quindi il Jerry… Secondo me… Sì… Però… Comunque… Bravissimo… Viaggio insieme a Christian… Fino al 2005… E poi dopo… E' un po' cambiato… E' un po' cambiato il cavallo… Tutti i matrimoni… Questa domanda… Secondo me valeva anche per te… Mi scherza… Sì… Io me ne sono accorta da subito di essere un'icona… Esatto… Dei miei tempi… E come ci se ne… Cioè… Come ti rendi conto… Te ne rendi conto… No… Ti guardi con gli occhi… Diversi… Del pubblico… Sì… Può essere… Sì… Te ne rendi conto… Quando ti guardi con gli occhi del pubblico… Però voglio dire… Rendersene conto… È anche la fine del gioco… Quindi non te ne vuoi mai rendere conto… No… Sì… Probabilmente sì… Sennò si finisce di giocare… Sì… È vero… Voglio dire… È anche giusto… Secondo me è anche giusto… Considerarsi in un certo modo… E abbastanza oggettivamente… Ok… Cioè… Voglio dire… Non è che bisogna buttarsi sempre giù… Però arrivare a considerarsi un'icona… Cioè… Non voglio dirlo adesso… Sì… Ok… Sì… Col tempo… Col tempo… Sai che lo dico anche… Tu sei un'icona… Lo dico io… Facciamo… Ok… Grazie… Anche perché… Non si sa com'è… Ma il tuo microfono ha riverbero… Che ti rende… È vero… Ti rende divina… I nostri sono piatti… Ragazzi… Non è il microfono… È la mia voce… È direttamente sì… Modificata con il riverbero… Ho fatto una piccola operazione vocale… Per avere direttamente il riverbero… Il microfono… Sì… Sembra un eco… Cioè… C'è l'eco… Sì… Ma non si sente dal vivo… Però quando parlo col microfono… Sì… È incredibile… Pazzesco… È la tecnologia… Va avanti… Pazzesco… È diventato tutto rigoroso… Tutto diverso… Tutto perfetto… Invece tutto sta nell'imperfezione… La perfezione… Non è regola… Tu dici che è tutto perfetto… Io vedo… Non vedo cose tutte perfette… Eh no… Perché non ci fai caso… Ah dici… Non ci fai caso… Ma se… Se butti un occhio… Ti rendi conto che… Stiamo andando verso un mondo perfetto… Qual è la… Un sinonimo di questa perfezione… Cioè qual è… Cos'è un esempio di questa perfezione… Ah mi sono reso… No no… È proprio… È proprio come sta… Sta cambiando la vita mondiale… Si è… Un certo momento… Non so chi… Ma siccome uno spectre… Probabilmente… Ha deciso che il mondo doveva prendere un'altra piega… Cosa l'è uno spectre… Raga… Uno spectre… È come un… Un grande fratello… Ah… Orwell… Giusto… Può essere un… Diciamo… Una… Qui parliamo di… Massoneria e illuminati… No… Mi piace che l'hai detto con del pathos pazzesco… Si potrebbe… Si potrebbe chiamare un ordine nuovo… Ok… Un nuovo ordine mondiale… Ok… Potrebbe essere qualcosa di… Non alieno… Qualcosa di umano… No… Agli umani… Alieno non credo… Potenti… Io spero negli alieni… Anch'io… Tantissimo… Tu speri nel… Negli alieni… Spero che esistano… Spero che arrivino e sperano di vederli… Spero che mi scelgano anche… Che ti sollevino… Si… Magari durante un live… Potrebbe essere carino… Gli hai anche visti… Non lo sai… Quello si… Può essere… Vabbè… Eh si vivono quel film lì… Stupendo… In cui quello ti metti gli occhiali da sole… Vedi veramente… Ci sono degli occhiali da sole speciali… Che vedi… In cui… Attraverso cui vedi… Chi sono gli alieni nel mondo… Stupendo… Ma può essere tutto… Tutto è possibile… Sì… Io vorrei… Vorrei essere sedotto da un alieno… Ma guarda che questi occhiali da sole… Mi fanno vedere appunto gli alieni nel mondo… Per quello ce li ho sempre su raga… Ah il eco… Per stare alle… Eh si… Alla voce… Gli occhiali… Gli occhiali… Quanti segreti ha questi microfoni oggi ragazzi… Tanti eh… Incredibile… Tanti… Ma sì… Il fatto degli alieni… Cioè… È impossibile che non esista un'altra forma di vita senziente nell'immensità dell'universo… Ne abbiamo parlato… Sì… Il concetto è che è così vasto che magari sono esistiti un secondo fa nei tempi infiniti dello spazio… E non lo sappiamo… Sì… Perché magari c'è un'altra anche percezione del tempo… Quindi… Magari non ci incontreremo mai… Però magari sì dai… Vediamo… Sì… Siamo noi gli alieni… Oppure ci sono delle creature marine che sono totalmente degli alieni… Sì quello… Ma mi sono intrippata l'altra sera a vedere questi… Vabbè… Un video di… I cinque suoni dell'oceano non ancora… Scoperti… Scoperti… YouTube… E ci sono dei suoni che… Ovviamente dicono… Forse sono queste creature marine che sono talmente nelle profondità… Che noi non possiamo manco vedere loro… Probabile… Sicuro… Avete mai pensato che nel 1968-69 l'uomo è andato sulla luna? Sì… Ecco… Nessuno però ha pensato come mai… Nel… Nel 68 o 69 era… 69 credo… 69… Sulla luna… Scelsero quell'anno… Allora… Com'era avanti la tecnologia nel 1969… Molto… Beh… Sfumo… Una cosa incredibile… Però… Avevamo Rai 1 e Rai 2… Neanche la televisione a colori… Ce l'aveva solamente la Svizzera… La televisione a colori… E poi fuori… Allora… Prova a pensare… Dico… Ma… Com'è possibile che cinquant'anni dopo… Succede… Un virus… Quindi stai… Tu credi nell'allunaggio… Sì… Sì… Però dici… Se noi siamo atterrati là… Che cosa c'è dietro… Al fatto che siamo atterrati là… C'è una tecnologia sconosciuta… Beh lì era post guerra… E poi una corsa per riuscire a… A flettere i muscoli… Ho capito… Per arrivare là… Da qua vedevamo le immagini… Eh vuole dire che la tecnologia è molto avanti… Dici invece perché… Adesso lo fai col telefonino… Ragazzi… C'è qualcosa che non quadra… Dici come mai non è stata applicata una tecnologia così avanzata… Nel virus… Nella lotta alla pandemia… Perché è biologico… È biologia… Il virus è biologico… Non credo che noi riusciremo a dare delle risposte competenti nel merito… Beh… Però… Perché sì c'è una differenza… Credo che ci sia una risposta… Sì… Tra la trasmissione di immagini e la trasmissione del virus… Forse c'è un correlamento… Cosa? No… Dicevo… Capito… Il correlamento che trovavo… Però le libertà… Avevo un'altra domanda io su… Perché diceva che li appassionavano gli oceani… Tu sei una fan di tutto l'immaginario… Dicevamo prima… Mediaset… Berlu… Sì… E sei l'unica nella storia che ho sentito della musica urban… A citare tipo il Gabibbo, Maristel Polanco… Da Icon… Ma tu sei fan di quelle cose lì? Perché… E in che modo ne sei fan? Io sono attratta in maniera morbosa da tutto quell'immaginario lì… Perché è l'immaginario con cui siamo stati nutriti e bombardati… E non puoi non esserne affascinato… Perché ha fatto parte della tua crescita… Sì… Ma ne sei affascinata… Cioè tipo io per esempio… Affascino Repulsione… Quella roba lì… Quella roba… Sì… Tipo un incidente in autostrada… Guilty pleasure… Esatto… Guilty pleasure… Ma sei fan per esempio delle puntate di Un giorno in pretura… Dove c'è Maristel Polanco… Ovvio… Tanto… Anch'io… Sì… Sono molto esperta di tutto quel tipo di processi… Quello lì di Berlusconi… Nolgettina… Cioè ne so tanto… Tarantini… Ne so tante di quelle… Ci siamo trovati… Love of my life… Love of my life… Esatto… Allora c'è la… Sei a memoria… Sì… Allora ti spiego la situazione… Perché non vorrei che ti prendi male… C'è quella che viene dalla Favelas… E poi ci sono io che faccio quello che faccio… Un saluto a Nicole che io amo… Un saluto a Nicole Miletti… E vorrei incontrare prima un po' nella vita… Oh… Sinceramente… Adesso credo faccia… Nicole per favore… La DJ… Sì esatto… Hai mai conosciuto Nicole Minetti… Forse sì… Mi hai conosciuto tanto di quelle donne… A proposito… Cioè… Ai tuoi tempi quando sei esploso… Possiamo dire un metro di paragone… Di misurazione che utilizzo io… Eri un po' il Justin Bieber dell'epoca… Non credo… No… Justin Bieber è esploso che aveva 14 anni… Quando hai iniziato… Beh… 16… No… Era per dire… Allora ci siamo… Era Justin Bieber dell'epoca… No… Non per età anagrafica… Per clamore… Cioè… Per popolarità… Era un po'… Eravate in tanti… Non ce n'era… Ce n'era uno che primeggiava su tutti… A livello di popolarità… Eravate in pochi… Eravate a confronto ad adesso… Eri più Sex Symbol tu o Jerry Cala? Jerry Cala… Jerry Cala vero… Jerry Cala era Justin Bieber allora forse… Tu eri più uno dei Migos… Ok… I Migos sono… Afroamericani comunque… Sto dicendo a livello di popolarità… No… Una comparazione tra gli anni Ottanta e i Giorginistri La cosa che mi piace è che… E… Non ultimamente… Già da… Un po' di tempo a questa parte… Specialmente da quando… Da quando… Con la… Con lockdown… Praticamente… Sono stati trasmessi quasi tutti i film che io ho fatto… Io ho fatto circa 70… 75… Madonna… Sì no… I primi erano solamente partecipazioni… Poi gli altri… Dagli anni Ottanta in poi no… E… Incontro tantissime persone… Sia dalla mia età… Più giovani… E più giovani ancora… Che mi ringraziano perché… Sono cresciuto con i suoi film… E' bello… E' bello… Pazzesco… Ho trovato uno che si è messo anche a piangere… Vedi… E' bello… Ma infatti ne parlavo l'altro giorno… Del fatto che abbiamo fatto il giro comunque… Tutti quei film lì… Hanno fatto il giro per cui… C'è stato magari un periodo in cui erano criticati… Come Cine Panettoni… No tantissimo… Poi adesso… Sono caldo… Sì… Sono apprezzabili nel genere… Perché hanno fatto il giro… Come magari… Poteva essere criticatissima… Ragazzi quello che fa ridere… Fa ridere… Inutile poi cercare di far ridere… Intellectualmente… Mente… 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 Cercando di dare un messaggio… No… Fai ridere… O non fai ridere… Esatto… Poi ci sono le varie sfumature… Ci sono anche i periodi magari… Perché ci sono alcune cose che sono datate… Non dico magari… Nelle vostre… Però… Alcune cose… Le vedi anche da cinque anni di distanza… E dici… Boh… Non c'è più questo… Tutto l'immaginario… Loro… In qualche modo… Identifica un'epoca… E quindi… Non invecchia mai… Perché… Rappresenta quella cosa lì… E' come i fantozzi… I fantozzi… Sono immortali… Sì… Ma gli anni 80 sanno di… Sci… Cortina… Milano… Bamba… Bamba… Che altro… Metropoli… Però non bisogna dimenticare una cosa… Gli anni 80… Sono stati straordinari… Ma è stata straordinaria anche la televisione… Perché quando nacque Antenna 3 Lombardia… Fatta da… Da… Enzo Tortora… E… Renzo Villa… In quella… Emittente di… Legnano… C'erano i… I più grandi spettacoli comici… A cominciare dalla Bustarella… Cominciando poi… E… A tanti altri… Umberto Smaila era su Antenna 3… No… No… Smaila era sulla 7… Era sulla 7… E… E… Io e Teo… Abbiamo cominciato… Lo so… 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 Era l'inizio… Era l'inizio della tv commerciale… Esatto… Esatto… Infatti Berlusconi poi… Che già conoscemo… Mi venne a cuccare lì… Tac… E mi portò a Canale 5… Canale 5… Ciao… C'è una sigla… Esatto… Bellissimo… Beh… Una sigla per qualsiasi cosa… Sì… Quella sigla lì l'ha fatta Martelli… Martelli… Quali Martelli? Martelli… Musicista… Ah ok… Pensavo Claudio Martelli… No no… Ma posso dire… Anche musicista… Io ieri… Informandomi… Guardando un po'… Ho visto questo… Questa gag della cozza aliena… Sì… Te ricordi… Ah quella era Star Trek… Sì… A Draivin… Io ero Star Trek… A Draivin… Era dentro Draivin… Era una roba pazzesca… C'è un mondo alternativo Star Trek… Con anche una scimmia presente… Sì… E con un… Vabbè… Sai chi era la scimmia? Chi era? Orlando… Hai capito… E non Bloom… Non era Orlando Bloom… No… Magari era Orlando Bloom… Chi lo sa… Ecco la scena della cozza aliena amici… Sì… Esatto… Perché era molto bello… Alcuni valorosi compagni… Sono con lui… Il comandante Duracell… L'ingegnere Teanex… Il nome di questo eroe… E' Paul Trek… Questo è un eroe… Ma che studio… Raga ma… Che scenografia eh… Oltre… Perché è la margherita? Oltre… Perché è la margherita? Oltre… Perché è la margherita? Oltre… Oltre… Ma è per me… Però per me… Che budget comunque raga eh… Che budget raga… Che niente pasta… Perché io sono a dieta… Che figa anche… Se la tagliamo… Che era lei Massimo? Tini Cansino… Tini Cansino… Tini… Tini Cansino… Tini Cansino… Era sempre praticamente nuda… E c'aveva… La pelle d'oca… Sempre… Lei… Eh perché c'era nuda… Poverina aveva freddo… Magari… Era un principio di ipotermia… Eh perché c'ho freddo… Eh poverina amore… Adesso abbiamo capito perché… Ce la ricordiamo così poverina… Congelandosi… Esatto… Si sarà conservata bene… Il… Avevo una domanda che… Non sto leggendo… Mettila… Sì… Ma è vero che l'idea originale di striscia la notizia depositata in SIAE e non è a nome di Antonio Ricci ma è a nome di Massimo Boldi? È vero… Raccontaci tutto… Allora… Siamo nel… Settantasette… 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 C'erano le prime… Emittente televisive… Io da casa mia… Io… Io abitavo… E… In corso di Porta… Vigentina… E… Ho messo sull'antenna… Per vedere anche… L'emittente… Allora… Se si metteva l'antenna… Dovevi farlo da solo… E c'era… E… M'ero piazzato su Teleradio Reporter… E un certo momento alle 7 di sera usciva un certo… Giovanni Cozzi me lo ricordo… Che faceva un telegiornale… Diceva signori telegiornali… Ma faceva un telegiornale del condominio… Praticamente… Diceva tutto quello che succedeva nel condominio e nelle… Nel quartiere… Nel quartiere vicino eccetera così… E ho detto cazzo questa cosa qui mi fa troppo ghignare… Ho cominciato a scrivere questo telegiornale… Raccontando… Delle… Cose assurde… Delle cose… E l'ho presentato al derby… Sul palcoscenico del derby a Milano… Il precursore di striscia la notizia… Sì… E ho cominciato a fare questo… Chiaramente… Questo… Funzionava… Con il pubblico… Però… Insomma… Era limitato… Quando… Poi… Sono stato con… Conteo Teocoli… Ad Antenna Trele… E Lombardia… Gli autori che erano… Zuzur e Gaspari… E Gine Michele… Ah… Incredibile… Sì… Cioè gli autori… Sì… Pensate… Praticamente… Abbiamo deciso di fare… Tele Televedo… Tele Tele Torno Replicara… Che era il Tg di Cipollino… E loro scrivevano… Praticamente… Il testo… E io facevo… Questo telegiornale… Era dedicato… Proprio… Uno spazio preciso… Dove ero da solo… Quando sono passato… Ad Antenna… A Canale 5… A Canale 5… Feci Risatissima… Che era il primo grande show… Diretto da Davide Arampello… Io ho fatto altri programmi… Però è successo un fatto… Che mi chiamò Celentano… Per fare Fantastico… Allora lì fu… Un momento molto difficile… Fantastico era sulla Rai… Ok… Allora… Praticamente… Per fare Fantastico… Non sono… Stato… Perfetto con il Cavaliere Berlusconi… Scappai da Mediaset… Andai a lavorare in Rai… E venni condannato… Ah… All'esilio… Da Mediaset… No… All'esilio… A due miliardi e mezzo di… Pensavo una roba più blanda io… Ci volevano quattro film… Il Berlus… Allora… Aspetta… 250 milioni… No… Fammi capire bene… Tu avevi un'esclusiva con Mediaset… No… E cosa ci avevi? E lì il fatto che non c'era un'esclusiva perché non esistevano ancora… Le esclusive… Però loro hanno vinto la causa… Hanno vinto… Loro hanno vinto la causa… La prima udienza l'ho vinta io… E poi Cassazione… Il ex 700 che è stato fatto dal Cavaliere Berlusconi a Massimo Boldi… Il giudice Goldoni disse… Boldi può fare Fantastico… Ok… Arrivati al 31 di dicembre… L'avevi già fatto fantastico… L'avevo fatto… Mancava la puntata del 6 gennaio… Ricevo una telefonata del mio avvocato… E mi dice… Volevo fare tanti auguri… Sì… Grazie… Poi ci sono anche delle notizie… C'è stato un sequestro conservativo di 2 miliardi e mezzo… Madonna santa… La mia vita… Ma hanno bloccato tutto… Il Berlus… Cosa fai? Completamente bloccato… Anche a fare la benzina… Non potevo usare… Non avevo soldi… Non si preoccupi… Com'è finita? E' finita che io mi sono intromesso a casa di Silvio Berlusconi a Roma in via… Sono arrivato al mattino alle 7… Chi è? Sono io… Viene aprirmi Gianni Letta… Minchia raga… Che paura… Bocca puttana… Già… Alle 7 della mattina mi dice… Ma… Lei non ha un appuntamento con il Cavaliere… No… Cazzo è far western… Era un western… E allora… E allora aspetto… Prego ci accomodi… Sono stato ore… Seduto… In salotto… Mentre nella porta accanto… Aperta… Sentivo… Berlusconi… Con falonieri… Dell'utri… Dell'utri… Beh… Tutte delle belle persone… Che salutiamo… Praticamente… Che parlavano… Discutevano… E io… Sono stato alle 7… Le 8… Le 9… Le 10… Le 11… Le 12… La 1… La 1 e mezza… Andiamo a mangiare… Silenzio… Porca puttana… E… Ci te l'hai fatta sudare… Nel silenzio… Dopo qualche minuto… Allora… Cos'hai combinato… Ah… Così… Ciao Silvio… Cosa cos'hai combinato… Allora… Esci dalla porta… E vedo… Che slaccia la cravata… E la butta… Cazzo… Rissa… Sexy Silvio… O Rissa o Sexy Silvio… Allora… Lì ho capito che… Che potevo andare anche oltre… Ragazzi… Ragazzi… Ho fatto una cagata… Hai fatto bene… Perché le cagate bisogna farle… Sai quante strozzate ho fatto io… In vita mia… Tante… E da lì… Abbiamo fatto un accordo… Di 2 miliardi e mezzo di risate… Oh… Mi piace questa cosa che Silvio riesce a dare… Wow… E com'è che… Cioè… Non ho capito… E' documentato… E' documentato… E quindi… Te li ha ridati o no… I soldi… No… Non è che mi hai ridati… Non li avevo neanche pagati… Ah… Non te li ha pagati… E poi alla fine te li ha pagati… No… Infine… Mi ha fatto un contratto molto vantaggioso… E di conseguenza… Sei ritornato in Mediaset… Sono tornato… Alla grande… Una storia fantastica… Ma non mi hai risposto alla domanda di… Striscia la notizia… Ah… No… Giusto… Hai ragione… Perché… No… 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 È giusto… Perché nel mio rientro… In Mediaset… In Canale 5… Mai Buongiorno disse… Eh… No… Avete capito… Boldi… Lo devo presentare io… C'era Tele Mike… Tele Mike… Sì… Allora… Mi dice Silvio… Beh… Allora dai… Inventatevi… Una cosa… Ma cazzo… Sono… Sono quattro anni… Forse anche più… Che non faccio il telegiornale… Facciamo il telegiornale… Dice… No… Antonio Ricci… Cosa faceva… Stava sempre accanto a Berlusconi… Già allora… Quando… E cosa faceva ai tempi… Ricci… L'autore… Il regista… No… L'autore… Il consigliere… Era un… Un fatto… Un fatto… Un tutto fare… E… E allora dissi… Senti Antonio… Facciamo il telegiornale… Belli… Belli… Ancora sto telegiornale… È una cosa… È una cosa che non se ne può più… Il telegiornale… Vabbè cazzo… Però fa ridere… Vabbè… Facciamo sto telegiornale… Facciamo il telegiornale… Facciamo il telegiornale… E… Poi io… Continuavo… A… A lavorare per Canale 5… Arrivano… L'autore… E mi dicono… Oh… Ascolta una roba… Cazzo… Abbiamo visto… In uno studio… Che c'è… E… Greggio… Con… Con… Non era… Non era… Non era… Era… Pisu… Max Pisu… No… C'è Max… No… Non è Max… Raffaele… Raffaele Pisu… Irreprensibile… Che stanno facendo il telegiornale… Ma che? Sì… Ah… Io stavo facendo Grand Hotel… Ecco… Ok… Ma dico… Ma sei sicuro? Eh sì… Abbiamo visto… Abbiamo sentito… Allora io… Vado da Berlusconi… E le dico… Scusami Silvio… Eh… Cazzo… Ma… Quello è uno spazio mio… Perché lo devo fare… Non… Non erano ancora andati in onda… Eh… Erano solamente delle prove… Certo… Certo… Ma perché… Che cosa succede? No… Succede che… Mi dicono che… Che… Reggio… Con… Stanno facendo telegiornale… Sai… Io ci tengo… Lui chiama… Pronto? Sì… Volevo sapere… Sì… Sì… D'accordo… Sì… 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 Ma è momentaneamente… Sono… Per tre mesi… Cazzo… Sono trent'anni… Striscia la notizia quindi… Il nome l'hai dato tu? No… No… L'ha dato Ricci… L'ha dato Ricci… Diciamo che… L'idea… È partito dall'idea tua… E lui l'ha sviluppata… Perché… Il telegiornale… Era stato fatto… In televisione… Anni prima… Da… Alighiero Noschesi… Che era… Un imitatore… E da Walter Chiari… Ma loro facevano l'imitazione del telegiornale… Non il telegiornale… Vero e proprio… Comico… Oh… Ma le persone capivano… Che si trattasse di un'imitazione… No… No… Ha criticato immagino… Beh era avanti… No… Poi l'ho anche condotto io… Con Paolo Villaggio… C'è stato… E quindi sei rimasto amico di Ricci… Siete amici? No… Tutti amici… Bello… Mi piace questa cosa… Che ne dici di Striscia… Ti piace come programma? No… Ok… Perché hai evoluto… No… Ma è noioso… A quell'effetto che dicevi prima… Dei… Dei… Comedianti… Che sono ancora lì a fare… La stessa roba di 30 anni fa magari… No… Ma non ci sono più neanche quelli… No… Striscia è diventato ormai un… Un film… Come il telegiornale… Invecchiato… Eh beh è passato del tempo… Perché ora si può parodizzare Striscia… Come… In realtà non si poteva magari all'inizio… Eh sono passati tanti anni… Era la parodia… A me una cosa che fa ridere di Striscia… Che mi fa pensare… Mi fa sempre molto ridere… E che le risate che ci sono sotto… Sono sempre le stesse… No… Da quando è iniziato Striscia… Sai fanno la battuta… Si sente… Sotto no… Risate degli anni 50… Esatto… Quello che penso è che le persone che ridono a Striscia oggi… Sono tutte morte… Sì… Sono risate di morti… Sono risate di morti… Pensavo dicessi che ti faceva ridere il Gabibbo… No il Gabibbo mi fa ridere… E comunque continua a far ridere… Continua a far ridere… Quelle risate lì… Quelle risate lì… Venivano da Benny Hill… Ah sì… È vero… Le inventate Benny Hill le risate sotto… Ma pensa te Benny Hill… È tutto accaduto in cent'anni comunque… È ancora tutto fresco… È freschissimo… Effettivamente… Cioè cent'anni fa c'era… Chaplin… È tutto adesso… Tutto ora… Ma invece come ve l'ha cavati in amore… Eh… Attenzione… Ma così… Si… Parlavamo di cinema e di televisione… E ci mettiamo a… È un po' come al gioco… L'amore no? È come un gioco d'azzardo… A volte si punta tanto e si perde… A volte si punta poco e si rimane piacevolmente colpiti… Te piace puntare tanto? Dipende dalla serata… Dipende se sono al derby o se sono da altre parti… Ok… Sì… La location è importante… È importante… Sì… Io sono vedovo e di conseguenza sono birichino… Oh… E ora com'è… E via… Sei stato birichino anche in passato? Da… Abbastanza… Prematrimonio… Quanto birichino pensi di essere stato? Eh… Insomma… Abbastanza… Parecchio… Poi… Poiché non riesco ad avvicinarmi… Perché tanti mi dicono amici… Ma tu devi trovarti una donna della tua età… Ma io quel cazzo non la voglio trovare della mia età… È comprensibile… Cioè ci sta… Qual è la fascia d'età che ti piace di più? Quarantina… Quarantina… Dai trenta ai quaranta… Ah… Dai trenta ai quaranta… Ok… Noi abbiamo per voi un piccolo stacchetto… Abbiamo preparato… Ah è vero… Delle domande… Sì… La posta del cuore… Dal nostro pubblico di Muschio con quale non abbiamo mai interagito prima d'oggi… Mai… Però che salutiamo… Che salutiamo… E con quale interagirete voi… Top… Va bene… Abbiamo preparato… Abbiamo preparato una selezione… Abbiamo chiesto di fare la posta del cuore… Di dirci i loro problemi di cuore… Massimo ha più esperienze di tutti noi… Forse messi insieme al tavolo… In amore… Direi… Avrai la tua… Comunque… Avrai la tua… La tua gavetta diciamo… In amore… Sì… Iniziamo qua con… Non ci sono i nomi… Abbiamo censurato per privacy… Si sta… Non riesco a trovare una ragazza… Consigli… Beh questa è la base… Sì questa è la base… Consigli… Forse è un consiglio femminile in questo caso… Guarda… Se non riesci a trovarla… Probabilmente… Non hai dieci decimi… Perché il mondo è pieno… Di ragazze pazzesche… Semplicemente… Gira… E apri gli occhi… Secondo me è importante… Scusami Massimo se intervengo… Ma… Anche non darsi i limiti… Cioè… Uno dice… Magari preferisco l'età 30-40… Ma che ne sei… Magari l'amore della tua vita… 50-60 anni… Cioè bisogna sempre arrivare… E essere con gli occhi aperti… Ragazzi… Non precludersi nulla… Ragazzi… E poi guardare… Voglio trovare una ragazza consigli… Beh la devi cercare… Eh appunto… Straight to the point… Poi abbiamo… Sesso… Sesso pazzesco… Pazzesco è un termine molto mischiettiano… Sesso pazzesco e feeling normale… O sesso normale e feeling pazzesco… Per me basta che sia pazzesco… Cioè nel senso… Il feeling pazzesco e il sesso pazzesco… Ma devi unirli… Cioè… La normalità… La banalità… Non ci piacciono… Ma posso dire una cosa… Non c'è senso… Eccolo… Non c'è senso… Non c'è senso pazzesco… Senza feeling… Pazzesco… Non volevo ripetere… Ma questa forse probabilmente può essere anche una canzone di Miss nuova… Sesso pazzesco feeling normale… Sesso normale… E poi troppo… Sì esatto… Secondo me… Dipende molto da quello che hai pipato… Ok… Benissimo… Mi è capitato di non riuscire a smettere di idealizzare le tipe per cui provo interesse… Che cosa intende per idealizzare… Mitizzarle… Sì… Beh è un classico… Sì… Quando ti fai il viaggio più che… Guardare chi è effettivamente la persona… Sì… Esatto… E… Come si risolve… Semplicemente devi vivere la persona a forria… Di solito ti passa anche nel giro di un'ora… Questa mitizzazione… Cioè per lo meno per me è così… È vero… Sì… O delle sedute dallo psicologo anche… Anche… No… Per me invece… Bisogna innamorarsi… Se non ti innamori… Non serve a niente… Però ci si innamora magari mitizzando… Sì… Quindi ci sta la mitizzazione alle volte… All right… La famiglia del mio boy mi odia… Uomo della mia vita… Ma loro sono cattivissimi con me… Ed è dura… Oh… Beh… Non c'è… Non è obbligatorio vedere la famiglia del boy… Sono d'accordo… Sono d'accordo… Da quando sono incinta mio marito non vuole più venire a letto con me… Ah… Perché è già venuto comunque… Oh… Oh… Ah… Eh vabbè… Però… Era pesa questa… È bello… Eh… Posso dire una cosa? Qua sono esperto… Ci sta… Che… Durante la gestazione… Si dice così… Possa calare la libido… Cioè… Per un uomo… Vorrei dire a questa ragazza… Non ti preoccupare… È normale… L'uomo… Che… Diciamo… Rispetto alla donna… Non è propenso ai cambiamenti… Non riesce ad adattarsi molto bene ai cambiamenti… Quando vede questa pancia… E sa che dentro c'è un essere vivente… Un po' si agita… C'è un effetto naturale… Per evitare di far male… Eh… Un po' si agita… C'è… Succede… Ci sta… Vedrai che… Dopo che partorirai… Torna tutto… Vabbè… Basta parlare… Esatto… Ma infatti ci sta… Bisogna parlare… E avere sempre… Comunicarsi… Come mai non mi scopi più… Comunicarsi… E lui ti dirà magari… Guarda… È la prima volta che vedo questa cosa… E devo… Mi fa strano… Eh sì… È come entrare in acqua fredda… Comunicare è molto sensuale… Quando ti senti unito nello spirito… Spesso ti vuoi sentire unito anche carnalmente… Quindi consiglio la comunicazione a questa coppia… Comunque parlando di sesso… Io posso dirvi quello che penso… Che non si scopa più… Attenzione… Accuse pesanti a questa generazione… Tu pensi che questa generazione non scopi più… No… Sono sicuro… Probabile… No… Beh i dati parlano chiaro… O si fa col preservativo tanto… Beh quello sì… Cioè non ci sono bambini innanzitutto… Vabbè quello è un altro discorso… Non significa che si scopi più… No no… Si fa solo per procreare… No… Proprio l'atto… L'atto… È vecchio… È antico… Può essere… Eh non lo sappiamo perché non l'abbiamo… Non abbiamo passato periodi magari in cui si faceva di più… Non sappiamo cosa significhi… Sento un pelo di timore nell'approccio eh… Cioè nel senso… Mentre magari si poteva essere più sfacciati… Eh beh… Ora è difficile… Ma a parte che post-covid… Puoi trovare… Puoi trovare anche una situazione talmente entusiasmante che ti fa partire il melone… Allora questo… Per l'amore di Dio… Ma nella norma è così… Vici… Secondo me l'età media si è abbassata molto… Ma no… Le nostre bisnonne facciamo i bambini a 12 anni… Ok… Io ho detto una cazzata… Cioè alla fine… No… Ma perché te l'ha detto un altro… Perché te l'ha detto un altro… Ah… Per passaparola… Per passaparola… Per passaparola… Non c'è più il passaparola dello scopare… Chissà… No… Chissà se la pornografia ha influito in questo senso… Ma no… Sì di brutto… Certo… Ragazzi… Eh se ti togli… Magari ti togli la curiosità prima di farlo… E quindi dici… Ma che vuol dire? Se vedo uno che fa bungee jumping mi viene voglia… Se sono incuriosito di fare bungee jumping… Non è proprio bungee jumping… È un po' diverso… Pensa quando non vedevi proprio… L'atto così facilmente… Ma no… Invece… Io la trovo un'ottima promo per il sesso… Il porno… Il porno… Non lo so… Può essere che disinibisca un po', no? Secondo me… Cioè nel senso… Sì ma gli inventatori dicono anche quello… Cioè un conto è parlarne… Un conto è mostrare dei livelli di pornografia… Così estremi… Non lo so… Ok… È una teoria molto da Don Alberto… Certo… No… Però è vero… Cioè raga… Nel senso che… Secondo me… Talmente… A volte… Sparato in faccia… Sì no… È vero… Capisci quello che ti voglio dire… Sicuramente… Il porno… Dipende poi da cosa ti piace… Però il porno… Quello girato… Non quello amatoriale… Sicuramente è alzato tanto gli standard… Hai capito… Ti viene un po' di timore… Performance assurde… Donne perfette fisicamente… E quindi… Dici cazzo… Ti viene l'ansia… È un po' di pornografia anni 90… Non lo so come dirti… Un po' cattiva… Anche ruenta… Che magari… Ti metto un pochino di timore… Che ti dici… No ma magari non sono all'altezza di questa cosa… Sicuramente raga… Internet ha rivoluzionato tutto… Cioè vuol dire… Le risposte che cercavi… Tu le hai… Sai tutto… Non ti senti più… Cioè ti piacciono certe cose… Ti piacciono certi… Hai certi gusti… Non sei più un alieno come prima… Non ti senti solo… Esatto… Questo è bello… Infatti mi ricordo che sono cresciuto su Yahoo Answer da ragazzino… Ogni dubbio che avevo sessuale… Andavo su Yahoo Answer… A guardarle domande e risposte… Sì… Ma anche lei dice le categorie… Sì… Se a te ti piace farti fare la pipì addosso… E vedi che su un sito porno c'è la categoria pissing… Dici… Non sono il solo… Guarda che è importantissimo… Ha i suoi pro e i suoi contro… Sì… Ha i suoi pro e i suoi contro… Sì… Sicuramente… Ne parleremo in un'altra puntata… Sì… Sì… Con anche un pedagogo… A gogo… A gogo… Mi sono dichiarato… È andata male… Siamo molto amici… Ma mi piace ancora… Eh… Beh dai… Ah è fatto bene no? Sì… Secondo me sì… Certo sì… Cavolo meglio che vivere col rimpianto… Mai… Sì… Meglio fare che non fare… Aspetta un momento di calo psicologico… E ti scoperà… No… Non ti vorrà… Però una cosa riuscirai a portare a casa… Se gli stai attaccato… Però lui si innamora ancora di più… Eh lo so… Vabbè… Una soddisfazioncina secondo me nel tempo riesce a portartela a casa… Di solito poi c'è un cambio di prospettiva… Sì… Sai che quando succede poi cambiano i ruoli… Vabbè… Chissà… Chissà come andrà… Chissà… Facci sapere… Facci sapere… Troppo ha paura di rovinare la nostra amicizia… Ah questa è collegata… Questo è quello che non l'ha fatto… Però… È vero… Non è vero… No… Non si rovinano le amicizie… Anche secondo me… Si rafforza magari… È vero… Si rafforza… Meglio provare che non provare raga… Sì… Sì… Provaci… Non so se è proprio di cuore… Ma… C'è qualcosa di male a non voler fare coming out ai propri genitori? Eh… Secondo me… C'è di male che… Beh… Il poter essere liberi di essere se stessi di fronte a tutti è la cosa più bella che c'è… Voglio dire… È quello… Non c'è niente di male… Giusto che uno lo faccia quando se la sente… Nel momento in cui se la sente… Però è un… Veramente è un… Come un… Liberarsi di mille pesi… E secondo me… È bello farlo quando te la senti… È una cosa che ti libera davvero… Cioè… Essere se stessi… È bello, no? Sì… Credo… Posso immaginare… Magari sbaglio… Che… È una liberazione indipendentemente dalla reazione… Assolutamente… Sì… È perché sei tu di fronte al mondo così… Esatto… Cioè lo sei… Basta… È andata… L'hai detto a tutti… Non lo so… Secondo me è importante… Ma è giusto anche sentirsi di fare quello che… Quello che ci fa quando ci va… Esatto… Quindi con calma… Ma… Io continuerei a pensare alla questione… Sì… È… Secondo me Massimo lo sa meglio di noi… Si è o si fa i monogami, Massimo? Si fa… Si fa… Si fa… Brutale… Si fa… Giustissimo… Perché per natura… Non credo che sia nati per stare con un animale… Yes… Alcuni al minimale li sono monogami… Sì… Invece dicevamo prima… Abbiamo parlato un po' della Milano anni 80… Ah… La mia bella veggie Milano… Esatto… Mi ricordi quando eri un figlio e quando eri un bagaglio… Un bagaglio… Noi allora abitavamo… Sapete quelle case di ringhiera… Dove la toilette… E là in fondo… Era in fondo… Il cesso comune… Mio padre è nato… Corri… Corri per raggiungere la meta… Arrivavi… Occupato… Mamma mia… Com'era Porta Venezia negli anni 80? Ma… È uguale… Uguale… Ok… Ho cambiato nulla… C'era la porta… C'era la porta… La strada… Corso Buenos Aires… Era quella… Sì… Ma invece perché pensavo… Mischietta invece rappresenta il ventunesimo secolo della Milano… Dell'Italia… La Milano 2013-2020… Esatto… 2030… Sì vabbè… Per ora… Sembra uno spot promo per il mio ingresso in politica… Chi lo sa… Esatto… Chi lo sa… Vabbè vedremo… Spaccherebbe… Spaccherebbe raga… Come ingresso si è top… E tu invece come ti senti… Ti senti di possedere un po' questa città… Di essere… Di rappresentarla… Sì… Dai… Di possederla mi sembra tanto… Anche perché comunque gli acquisti li sto facendo pian piano… Ok… Esatto… Comunque i bastioni sono un po' complicati da acquistare… Anyway… No… Mi sento un pochino di rappresentarla… Dai sì… Secondo me sì… Nel senso che… Fondamentalmente come citavi tu Porta Venezia… Cioè… Sento un pochino di rappresentare quel luogo… E di… Ma ne sono anche orgogliosa di poterlo rappresentare… Di averlo portato anche un attimino in Italia… Voglio dire… Cioè… Porta Venezia è… Quel luogo in cui tu puoi essere… Tranquillo… Libero di essere te stesso… Te stessa… E… Andare in giro… Come vuoi… Con chi vuoi… E… È un po' quella libertà di cui parlavamo prima… Che cazzo succede in Porta Venezia… Sono stato in Porta Venezia… È veramente così… È veramente così… Che cazzo succede in Porta Venezia… È veramente così… Entri e ti danno una… Ti danno una… Una… Una medaglietta magica… Benvenuto a Porta Venezia… Ma che cosa c'è a Porta Venezia… C'è la metro arcobaleno… Ci sono le ragazze… C'è tutto arcobaleno… Minchia raga… Io non conosco Milano… Di Rozzano… Cosa c'è a Porta Venezia… Il planetario… Io sapevo… Ah sei di Rozzano… Sì sono di Rozzano… Sono di Bucinasco… Però poi a Rozzano mi sono trasferito… No vabbè… Porta Venezia è diventato il quartiere… Cioè è simbolo dell'inclusione… Nel senso che è il quartiere Rembo di Milano… Perché ci sono dei locali… Sì… C'è a Vialecco… Ci sono tutti dei locali… Che pian piano… Ah sì… Ci sono stato… Ci sono stato in uno… Beh mi auguro… Sì vabbè però… Ci sono stato… È tutto arcobaleno… È un locale arcobaleno… Ci sono stato… E vedo delle persone… Non è che mi metto a dire… Ah è un locale arcobaleno o no… Capito… Sì… Porta Venezia… Fai conto comunque… Essendo da… A metà tra stazione centrale e il Duomo… È sempre stato un posto di interscambio… C'era l'albergo diurno… La gente dopo i viaggi andava a Porta Venezia… Arrivavano tutte le persone che facevano i viaggi da fuori… Arrivavano lì… È sempre stato un punto di… Un mischione… In cui poi… Convivendo diverse realtà… Diciamo che è stato poi il luogo in cui è… È nata… Un po' il luogo che ha… La culla… Rainbow di Milano ecco… Della diversity… Sì esatto… Dell'inclusione… Il luogo… La zona cosmopolita e inclusiva… Sì… Sì… Però devi venire… A meno a mangiare gelato… Porta Venezia… Cioè non è che non ci vado… Eh… È che… Non… Faccio una vita un po' ad anziano… Quindi non so… Non sapevo che i locali ci fossero… Ma in realtà avevo appena scoperto di essere stato in un locale… Ho mangiato da un buon eritreo vicino l'altro giorno… Sì… Molto buono… Con le mani… Che al momento non è il modo migliore per mangiare… Però se le lavi… Si può fare… Importante… Vabbè… Il tuo quartiere preferito Massimo… Milano… Porta Cica… Porta Ticinese… Sempre delle porte comunque… Eh beh sì… Porta Ticinese… Ticinese bello… Porto San Gottardo… Via Meda… Via Tabacchi… Colonna di San Lorenzo… Colonna di San Lorenzo… Eh beh San Gottardo… Sì… Però devi andare in fondo… Sì sì… Ah San Gottardo… Mio papà lavorava in San Gottardo… Pensate… Vedi… Ah Milano… Eh… Come non vi capisco… È la prima volta che in questo podcast parliamo di Milano e non di Bologna… Cazzo… Attenzione… Avete vinto… Adesso oggettivamente è meglio Milano o Bologna? No… Meglio Milano… Vabbè… Non c'è storia… È un giudizio totalmente… Vabbè… Mi piace… Mi piace… Sa niente… Ma non esiste… Arrabbiato… Arrabbiato… Milano… Ma no… Milano è… È internazionale… È diventata… Una metropoli… È una metropoli… Non è una metropoli… È una metropoli… Non è una metropoli… È una metropoli… È una delle dieci metropoli italiane… Chi è il capo di Bologna? Chi è il post di Bologna? Io… Al momento… Ah ok… Vabbè… Dovrei essere… Sì sì sì… Io… Poi non so… Gianni Morandi… Cesare Crevonini… Elettra Lamborghini… Abbiamo un po'… Elettra Lamborghini… C'è il consiglio anche… Comunale… Nell'equivalente del derby… La P2 bolognese… Vabbè… Comunque sì… Vabbè… Non si parla di città… Abbiamo parlato molto di Milano… Di spettacolo… Di… E cosa avete nei piani del vostro futuro? Io ho un tour… In cui vi invito tutti… Quando parte? È partito… È partito e sta galoppando… Sta andando avanti… Domani… Domani Bologna… Poi dopodomani Torino… Però domani non uscirà… Eh appunto… Questa puntata l'avrà già fatta… Però Luis voleva venire domani… Quindi per quello abbiamo andato domani… Ok ok… Quindi dovevamo capire se riusciva dopo teatro a venire… E… 30 luglio c'è Padova… Il 4 agosto San Benedetto del Tronto… Il 9 agosto ci sarà Brescia… Il 15 Melpignano… Il 16 Loro Corotondo… Ma quante sono… Ma quanto… Sei pazzesca… Come cazzo fai a ricordarti tutte le date? Eh… Sono forti quei codici alfanumerici… Ma incredibile… Io non me le… Eh te lo giuro… Non me le ricordo mai… Io ogni tanto devo farmi dire… Quando sono… Prima di siedere sul palco… In che città sono… No… Quello è il livello… È terribile… Ma se fossi una star internazionale… Where are we? I love you in general… Where are we? Ti racconto questa storia che mi è capitata… Una cosa terribile… Ero a Doristano… In Sardegna… Sì… Davanti… Salutiamo i Doristani… Era l'Icnusa Festival… Vabbè… Persone molto ubriache… Bellissimo… Credo… 50-60mila persone… Ok… Io salgo sul palco… Gasatissimo… A Oristano… E faccio… Ciao Otranto… No dai… Bello… Bello… Veramente bello… È una roba che ti picchiano… Non mi hanno picchiato… Infatti volevo ringraziare gli amici di Oristano… Perché non mi hanno picchiato… Ma forse erano ubriachi e non avevano… Sì… Però la reazione di una folla ubriaca può essere veramente sconsiderata… Un sacco di knuse che arrivano in testa… No… Mi hanno lanciato delle knuse in testa… Quindi volevo ringraziarli… Ringraziamo tutti… Sì… Sì… E invece Massimo cosa ci riserva… Quali sono i piani magari… Ci dobbiamo indovinare… Sì… Piani per il futuro… Piani per il futuro… Beh… Io mi sono dedicato in questi ultimi anni solo al cinema… Perché è l'unica forma di… Di spettacolo… Perché in televisione… In televisione non posso più presentarmi… Perché ormai la comicità è talmente diversa… Cosa vado a fare la gara con chi… E non si può… Se no devi fare un quiz… Non devi fare… Perciò mi sono… Mi sono buttato solamente sul cinema… Rimango sul cinema… Cercando di trovare il personaggio… Che con gli anni possa essere credibile… Senza… Perché… Se no… Da… Da comico… Non… Non… Diventi ridicolo… E non… E non sei più comico… Perché quando cominci a diventare ridicolo… È un po' triste… Non è simpatico… Quindi… Perciò sto preparando un film… Anzi… Stiamo aspettando l'ok… Che… È un film che però… Sono solo… Perché Christian l'ha già fatto… L'ha fatto con Siani… L'ha già finito… Adesso è in giro con la barchetta verso Capri… E su Oriente… E io invece… Sono ancora qui a Milano… Tra Milano e Roma… E sto aspettando… Abbiamo scritto un film comico… Finalmente… Farò un film comico… Non un film che fa ridere… Non fa ridere… Un film comico… Che è tutto un'altra cosa… Ok… Neri Parenti… Ho avuto l'idea… L'abbiamo… Abbiamo cercato di renderla più… 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 Semplice possibile… Ma c'è una comicità… Fantastica… Figata… Bello… Però non vi dico il titolo… Eh no… Non puoi dirlo… Vi dico solo… L'orientamento di questo film… Prendete… Miseria e nobiltà… Oh… Miseria e nobiltà… Bello… È un tema sempre… Sempre attuale… Ho un'ultima domanda da fare a Miss… Posso farla? Spara… Come cazzo fai a preservare la tua identità? Quanto è difficile nel 2021 mantenere segreta la propria identità? È… Tanto difficile… Ma… Se vuoi puoi caro Fedez… Se vuoi puoi… Cioè… In realtà dipende da quanto tu la vuoi… Cioè nel senso… Io la voglio preservare tanto… Ci tengo tanto… No ma a me piace… Miss è un… È un personaggio… Quindi… Sì… Ma poi ti levi tutte le rotture di cazzo… Capito… Che la popolarità ti dà… E infatti… Mi spiace non aver avuto io questa idea prima… Possiamo tornare indietro nel tempo… Esatto… Quando ci saranno i viaggi su Marte… Magari ci saranno anche indietro nel tempo… Vediamo… Mister Federico… Torniamo qua… E siamo tutti decoperti… Esatto… Penso a te… Sarebbe pazzesco… Va bene… Ragazzi… Grazie di questa chiacchiera… Grazie mille davvero… È stata una puntatona… In questa torri da Milano… Da bere… Di luglio… Dico luglio perché uscirà a luglio… Grazie ancora e ci vediamo presto… Grazie a voi… Adesso vi offro un caffè… Ottimo… Grazie Un tema ricorrente di tutte le puntate… Grazie mille… Grazie a tutti… Ciao… Grazie a tutti… Ciao…